Benvenuti sul nostro canale YouTube dedicato al mondo della danza e dell'arte, dove ogni passo e ogni movimento raccontano storie di passione e bellezza. Oggi vi porteremo nel cuore di un evento magico, un matrimonio che è più di una semplice unione, ma una coreografia dell'amore che tiene con il fiato sospeso. Quindi, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, e di lasciare un commento per entrare in questo straordinario universo artistico insieme a noi. Le luci soffuse si riflettevano sulle pareti antiche della Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, a Galatina, in Salento, il luogo che ha dato i Natali alla splendida Nicoletta Manni. E lì, tra quelle mura cariche di storia, si è svolto il capitolo più incantevole della storia d'amore tra Nicoletta e Timofi Andriashenko, le stelle brillanti della Scala di Milano. Tutto ha avuto inizio 13 mesi fa, sotto il cielo stellato dell'Arena di Verona, dove lo straordinario Roberto Bolle, una figura che danza attraverso generazioni e stili, ha tessuto le trame dell'amore. Era lui il tramite tra i destini intrecciati di Nicoletta e Timofi, il primo ballerino della Scala, che hanno unito le loro vite non solo con i legami del cuore, ma anche con quelli della danza. La cerimonia è stata una sinfonia di eleganza e grazia, con il leggendario Roberto Bolle a fungere da testimone, confermando il suo ruolo di cupidone anche nella proposta di nozze. Ma è stato il momento del primo ballo a incantare tutti i presenti e a tenere il respiro sospeso. Le note iniziali del tango hanno risuonato nell'aria, come le prime battute di una partitura perfetta. Ma poi, in un'inaspettata svolta, il tango si è trasformato in pizzica, il ritmo ancestrale e coinvolgente del salento, portando un sorriso complice agli sposi e un'energia travolgente a chi assisteva. E così, tra tradizione e innovazione, passato e presente, le vite di Nicoletta e Timofi si sono fuse in una danza senza tempo. L'abito di Nicoletta, fluido come un passo di danza, ha catturato l'essenza delle eventi, cambiando forma e stile nel corso della serata, proprio come il balletto si trasforma attraverso i movimenti dei corpi. E così, cari amanti della danza e della bellezza, abbiamo assistito a un matrimonio che va oltre le parole, una celebrazione dell'amore che ha danzato tra le pagine di una storia unica. Se anche voi siete affascinati dalla magia della danza e desiderate essere parte di una comunità dedicata all'eleganza e all'arte, non esitate a iscrivervi al nostro canale YouTube. Lasciate un commento qui sotto con le vostre impressioni su questa straordinaria unione e su come la danza possa raccontare le storie più belle. Vi aspettiamo nel mondo affascinante e coinvolgente della danza.